Il dottore ha detto che è stata avvelenata, perché non l'avete chiamato la polizia? Che lei poteva parlare ancora con quello che gli è successo? No, nessuno ha fatto niente. Quello che a noi era uscito, diciamo come informazione, era che Iman avesse detto ai medici ho il sospetto di essere avvelenata. No, lei mi ha detto al telefono, che gli ha detto il medico, che è stata avvelenata. Mi ha detto proprio il medico, mi ha detto non lo dico io, non riusciva neanche a dire, piano piano. Mi ha detto Fatima non te lo sto dicendo io, me l'ha detto il medico stamattina.